1 maggio 1947. A Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si riuniscono circa 2000 lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per festeggiare il 1 maggio e per manifestare a favore dell'occupazione delle terre incolte dei lati fondi. La gente in festa è colpita improvvisamente da raffiche di mitra, provenienti dalle colline circostanti. Muoiono 11 persone, tra cui due bambini, mentre altri feriti moriranno nei giorni seguenti. Si scoprirà in seguito che esecutore materiale della strage è stato il bandito Salvatore Giuliano con la sua banda. I mandanti però non saranno mai identificati.